siamo pronti per partire direi che ci siamo è stato un un incontro flash nel senso l'ho deciso all'ultimo momento perché mi mandava mi mandavate ho ricevuto qualche mail ma cos'è patrion cosa cos'è questo progetto noi parliamo con questi termini americani noi diciamo ma cosa che roba è noi in italia ancora non è famoso patrion e in america è una piattaforma famosissima ormai discretamente famosa in cui si si mettono dei contenuti e in qualche modo c'è l'opportunità di fare delle donazioni mensili e grazie a queste donazioni in qualche modo i creatori di contenuti riescono in qualche modo a ad avere quei finanziamenti che servono per gestire tutte le tutte le spese tutto tutto il tempo dedicato e così via a questo scopo ed è una piattaforma interessante solo che in italia diciamo è proprio agli esordi e vedendo il futuro sì per sopportare Kishori mi dice gli artisti e i creatori di contenuti anzi Kishori se riesce a prendere Shanti che gratta la porta vuole uscire vuole andare da te Shanti è il nostro cagnolino il nostro barboncino toi che adesso non vuole più andare scappata qua e qua anche lei è un'anima spirituale eterna in un corpo di barboncino che non se la vive male alla fine allora a parte i barboncini torniamo a noi siamo qua un po per discutere di questa piattaforma vi spiego un po come funziona alcuni di voi si sono già iscritti altri invece stanno pensando se iscriversi la modalità in cui farlo e quindi pensavo di iniziare spiegandovi appunto questo tipo di piattaforma perché ho deciso di fare di utilizzare questa piattaforma per due motivi uno è in qualche modo per espandere un po l'idea del ramayana quindi l'idea del podcast che è una bella idea è una cosa che uno si mette si ascolta ma alcuni di voi nel corso del tempo mi hanno chiesto come poter andare anche più in profondità in questi testi come poterli viverli maggiormente e quindi ho pensato di creare anche una modalità in cui ci fosse il video cosa che non è possibile fare nelle piattaforme di podcast dove magari ci fossero delle informazioni grafiche dove ci fosse l'opportunità in qualche modo anche di scambiare domande e risposte ad esempio in alcuni livelli creerò un gruppo telegram in cui ci sarà la possibilità di creare una piccola community che su questi testi sapienziali dovete sapere che molti di voi lo sanno che sono un astrologo vedico e che ho anche un academy ad esempio qua abbiamo luisa clementina cinzia adesso ho menzionato solo le persone che ho visto che fanno parte di questa academy e studiano l'astrologia vedica e per loro in qualche modo già do dei contenuti ad esempio che riguardano la bhagavagita e così via per integrarli nel loro studio di astrologi e da là è nata la bhagavagita per gli oghi moderni l'academy della bhagavagita in qualche modo che è uno dei percorsi che propongo sempre all'interno che proporrò all'interno del canale patreon e penso che questi anche per chi non è un astrologo in realtà non tutti vogliono fare gli astrologi anche se è una cosa molto bella e altrimenti non lo farei insomma è un bel servizio penso per per gli altri non tutti vogliono fare gli astrologi però molti invece vogliono fare un percorso di crescita filosofica evolutiva vogliono riappropriarsi di valori che la nostra società un po si è dimenticata ve ne stiamo ce ne stiamo accorgendo no come soprattutto gli ultimi anni sono stati una follia e da là che ho iniziato negli ultimi anni folli nei folli ultimi anni ho iniziato proprio il ramayana per gli oghi moderni che tra l'altro rama era proprio anche un rimedio astrologico quindi insomma è connesso anche a quello ma sono testi che in realtà hanno tanto da dire ovviamente per per poterli leggere serve anche avere quelle chiavi di lettura moderne vanno decriptati da una certa da una certa prospettiva vanno interpretati compresi vanno modernizzati ed è un po quello il lavoro in qualche modo che mi sono proposto di fare ovviamente io attingo dalla tradizione cerco di non mettere il mio da un punto di vista di contenuto ma cerco di mettere il mio servizio da un punto di vista di rendere accessibili ecco accessibili quei contenuti e non solo accessibili ma anche attuali vivibili nella vita di tutti i giorni con metafore con possibilità in qualche modo che rendono questi questi contenuti vivibili quindi una filosofia pratica io mi chiedo o mi sono chiesto nel mio percorso evolutivo anche io sono work in progress in questo percorso evolutivo e in questo percorso spesso mi sono chiesto come posso applicare questa storia il contenuto di questa storia ad esempio adesso stiamo leggendo nel Ramayana leggeremo nel Ramayana uno dei personaggi preferiti per me che è Vishwamitra Vishwamitra non so se ve ne siete accorti per chi segue ha già seguito il Ramayana è uno dei miei personaggi preferiti perché è un personaggio che non nasce perfetto cioè nasce sicuramente ha tante belle qualità ma non nasce perfetto anzi nel suo percorso fa svariati strafalcioni anche discretamente importanti ma il suo coraggio di andare avanti la sua capacità la sua forza di volontà comunque di rialzarsi andare verso una meta è quello che lo rende poi perfetto che lo renderà perfetto ecco come applicare questo insegnamento alla nostra vita e questo il punto che mi chiedo sempre quando faccio un podcast quando in qualche modo analizzo osservo un passaggio di queste scritture quindi in questa academy per yogi moderni in questa prema per yogi moderni questi due nomi che sono apparsi in qualche modo prema perché prema vuol dire amore e anche il mio nome il mio nome spirituale prema kumar e prema sarebbe come un diminutivo ma prema significa amore quindi l'idea alla base di questi testi in realtà è riappropriarci di quell'amore divino di quell'amore intrinseco e far sì che la vita sia piena di questo amore cosa difficile è una sfida incredibile perché tanti parlano d'amore e chiaramente c'è una interpretazione a volte più superficiale di cos'è l'amore e a volte l'amore è qualcosa sembra di dilliaco anche di irrealizzabile ma l'amore è qualcosa di è una scelta continua una scelta di agire è una scelta che sta nel nella modalità in cui noi vogliamo affrontare il mondo non è verso solo una persona l'amore l'amore poi si manifesta verso le persone ma l'amore parte da un amore di se stessi un amore della vita un amore del progetto che è per noi e che poi si espande se questo amore prende la giusta pieda si espande in ogni cosa ed irragia irragia il mondo ma è la più grande sfida l'amore perché ci sono tante motivazioni per cui noi dobbiamo difenderci nella vita e quindi chiudiamo proprio i rubinetti di questo amore il ramai è una storia d'amore e la storia d'amore tra rama e sita ma non è una storia lineare è un amore che passa per le avventure dell'eroe dell'eroe rama dell'eroe anuman la bhagavaghita pensate che l'altro testo yogico di cui parleremo la bhagavaghita avviene in un campo di battaglia che è una guerra non è una guerra santa ve lo spiegherò vi spiegherò tutti i dettagli a riguardo e anche quello è una guerra è una guerra come la vita è una guerra eppure in quella guerra dobbiamo amare che sembra proprio un paradosso la soluzione la chiave è l'amore seppure ad arjuna che riceverà le istruzioni da krishna nella bhagavaghita debba combattere una guerra che è una guerra politica non ha niente a che fare con la spiritualità la guerra di per sé è una guerra il suo lavoro sta svolgendo il suo lavoro in quella guerra dovrà imparare a farlo con amore dovrà imparare a far vincere l'amore l'ordine universale ok quindi sono due viaggi quelli che troveremo nel nel percorso per gli oghi moderni uno è un viaggio del ramayana dove riprenderemo il viaggio del podcast quindi voi parallelamente chi non ha ancora finito le 91 puntate del podcast parallelamente potete ascoltarle tanto dovete sapere questo anche se noi partissimo da metà dell'opera del ramayana basta riagganciarsi un attimo al filo conduttore della storia della fabula principale che subito ci riconnettiamo a quella parte là e da quella parte là prendiamo un sacco di informazioni quindi anche chi di voi non avesse finito già tutto il ramayana per gli oghi moderni le 91 puntate che alcuni mi hanno detto che le hanno divorate in un paio di settimane proprio divorate una dietro l'altra grazie del vostro supporto e può farlo parallelamente non è importante averle finite per prendere per ascoltare questi nuovi episodi perché questi nuovi episodi sono pieni di informazioni sono pieni io li vedo così anche i testi sono testi che leggo e rileggo da tanto tempo e ogni volta che li leggo e li rileggo mi danno delle informazioni sul presente sulla fase che sto vivendo sulla situazione della mia vita adesso non so se vi è già mai capitato questo chi di voi ha già letto la baghava ghita e ramayana o chi di voi ha già ascoltato il podcast che quel podcast ma non è per me non è perché prema e veggente o perché prema poteri mistici è il potere di questi testi è il potere della parola intrinseca in questa storia antica che ha che parla l'inconscio che entra in profondità che riesce in qualche modo a essere attuale non solo attuale nel 2023 attuale nel momento storico che sto vivendo in questo momento io personalmente chi di voi ha mai avuto questa esperienza ok perfetto è un'esperienza mistica perché se ci pensate ovviamente io che leggevo quel testo oppure chi ha scritto quel testo 5 mila anni fa non stava pensando a noi forse o forse sì ma eppure quel testo ci aggancia ci si connette a quello che stiamo vivendo e magari ci dà degli stimoli profondi per vivere in modo diverso la vita la nostra vita dei pattern e come noi viviamo la vita che cambia totalmente la dimensione di quello che noi stiamo percependo perfetto quindi abbiamo questi due testi il ramayana il ramayana per yogi moderni che continueremo ora ci sono tre livelli in questo canale patrion e tre livelli di supporto ricordatevi che patrion non è io pago un servizio patrion patrion non è io pago prema così prema mi da un video questo non è patrion patrion non funziona così non è questo patrion è io credo in questo progetto voglio fare una donazione voglio in qualche modo finanziare questo progetto in modo che questo progetto vada più avanti e raggiunga più persone e in omaggio in qualche modo e come scambio ottengo diciamo i benefici di questo progetto quindi ho i video vedo i video seguo le puntate e più capite non è uno scambio ma è un partecipare di questo progetto perché si pensa che questo progetto possa essere utile per l'umanità ok questa è l'idea di patrion l'idea che sta alla base ed è quello che mi è piaciuto in qualche modo mi è piaciuta questa idea di rendervi in qualche modo partecipi di questo progetto di farne parte e di creare insieme quindi una sorta di sanga un altro punto che mi ha affascinato di patrion è il fatto di poter avere una piattaforma in cui mettere tutte le lezioni tutto il materiale che ho creato che creerò nel corso degli anni in modo che ci sia un luogo in qualche modo che sia semplice da gestire perché poi è quello il problema perché tutto il materiale ad esempio l'astrologia lo metto in una piattaforma che è fantastica ma è complessissima da gestire è un mal di testa da gestire ogni volta che preparo una lezione è un mal di testa creare la lezione sto parlando di Moodle non so se qualcuno di voi lo conosce sicuramente Sarvacanti e Damodara è bellissimo è fantastico lo si usa a livello universitario Moodle per questo l'avevo scelto per l'academy perché è proprio un'idea di presentare l'astrologia in modo universitario in modo professionale ma per quanto riguarda tutti gli altri contenuti ad esempio negli yogi moderni metterò anche quelle lezioni sulle crisi spirituali o altre lezioni in più che farò nel corso dell'opera ad esempio avevamo fatto delle lezioni sui sei nemici adesso quelle purtroppo sono state registrate male ma magari lo rifaremo degli altri seminari metteremo degli articoli sulla Bhagavad Gita Mimma si è già proposta di aiutarmi in questo ci sono varie lezioni che sono state fatte nel tempo vari articoli e li metteremo quindi diventerà proprio un luogo un po' di riferimento per quella parte filosofica spirituale evolutiva meditativa quindi adesso voi vedrete solo solo la Bhagavad Gita e Ramayana per yogi moderni ma l'idea in realtà è che diventi proprio la piattaforma una piattaforma dove ci sia tutto quel contenuto filosofico spirituale psicologico che ha a che fare con questi testi e la tradizione dello yoga ok quindi questo diciamo come sviluppo successivo intanto partiamo da questi testi poi man mano che andiamo avanti tutti i contenuti verranno messi in qualche modo su questa piattaforma ecco quindi questo è un altro punto interessante e per chi non ha ancora seguito il podcast Kishori mi manda un messaggio per ricordarmi che i primi episodi soprattutto l'episodio della seconda puntata ha uno spoiler del Ramayana è un riassunto quindi consiglio a chi ancora non ha ascoltato il podcast di guardare almeno i primi episodi prima di guardare quegli episodi che troverà nella piattaforma o che seguirà dal vivo qualcuno di voi sceglierà la versione live grazie Daniela che dice che partecipare è un'azione bellissima sì questo è un po' il principio di questa piattaforma e mi piace come idea nel senso facciamo che questa missione sia una nostra missione io la sento una mia missione quella di diffondere la cultura vedica di diffondere questi testi sapienziali di diffondere l'astrologia vedica per me è una sorta di mission negli ultimi anni soprattutto negli ultimi cinque anni ho proprio strutturato la mia vita in modo molto semplice in modo da poter in qualche modo dedicarmi totalmente a questo e penso che sia io la sento la mia missione e chiaramente recluto anche chi sente che questa può essere una sua missione insomma o che vuole partecipare a questa missione perfetto quindi queste sono delle idee ok se ci sono domande per adesso se ci sono idee, riflessioni potete scrivere in chat potete alzare la mano e poi vi faccio vedere la piattaforma quindi se avete domande fatemelo sapere o dei pensieri a riguardo i testi che utilizziamo che utilizzeremo per la lettura sono quello delle edizioni Mimesis un'altra cosa che non vi ho detto è che la prima puntata di questa versione del Ramayana per Yogi Modeni che sarà una puntata video farò un riassunto ovviamente di dove siamo arrivati quindi un punto della situazione ovviamente stiamo iniziando un nuovo progetto questo nuovo progetto è sì connesso a quel progetto precedente però ovviamente ci fermeremo un attimo per fare una riflessione ok quindi siamo circa alla fine in realtà del primo libro del Ramayana del primo libro del Balakanda e ci affacceremo ad Ayodi Akanda un altro perché vi voglio dare vi voglio dare un altro perché uno poteva dare la prema non potevi continuare a fare il podcast che mi piaceva tanto quella versione che avevi scelto vi rispondo a questa domanda che mi autofaccio tra l'altro però magari è una domanda che risuona con qualcuno di voi ci sono vari motivi il primo motivo è che man mano che andiamo più in profondità con Ramayana penso che sia più più bello che soprattutto per chi sceglie la versione live che ci possa essere uno scambio che ci sia possa essere uno scambio più diretto tra di noi magari anche semplicemente con il canale Telegram magari fare delle domande su Facebook è un po' una vetrina no? quindi uno fa una domanda su Facebook è un po' una vetrina che vedono tutti ma quando si parla di questi argomenti magari si vuole più andare sul personale magari condividere una propria esperienza e io penso che man mano che andiamo più in profondità in quest'opera significa anche andare più in profondità dentro di noi e quindi avere uno scambio più diretto è sicuramente qualcosa di che ci permette una profondità maggiore che parlare distanti in qualche modo e questo è il primo punto un altro punto che riguarda me personalmente è che seppur amassi fare i podcast del Ramayana mettermi da solo davanti al computer senza avere l'interazione di qualcuno non so se qualcuno ha questa esperienza è molto meno motivante di invece avere una Zoom e parlare insieme ad altre persone vedere le reazioni quindi vedere l'umanità e avere uno scambio e questo non si può fare ovviamente facendo un podcast e così queste sono le motivazioni che mi vengono in mente nel da dirvi ok Renata mi capisce mi capisce immaginate vi mettete davanti chi di voi crea contenuti si mette là davanti e invece quando c'è un gruppo anche se siamo distanti c'è uno scambio c'è uno scambio energetico si sentono le energie è un'altra energia comunque non so se avete avuto anche Lidia lo sa con il cellulare mettersi là fare fare il video no? è diverso che interagire direttamente Paola dice anch'io la telecamera è spenta ok vabbè non c'è non fa niente io non conosco questi testi anche se ho comprato la Bhagavad Gita ho iniziato a leggere qualcosa ma non ho seguito il podcast vorrei avere più informazioni scusate l'ignoranza anche tecnologica allora Paola la prima cosa che ti consiglio è andare su Spotify su YouTube o su qualunque piattaforma e cercare Ramayana per yogi moderni e ascoltarti qualche puntata la Bhagavad Gita invece per la Bhagavad Gita la ovviamente leggere la Bhagavad Gita da solo è più complicata che leggerla insieme questo è un dato di fatto soprattutto per avere le chiavi giuste per poterla conoscere capire e così via in ogni caso sappiate che su Patreon uno si iscrive offre un contributo mensile ma si può disiscrivere quando vuole come qualunque cosa a me piace questa modalità perché uno magari per un periodo entusiasta poi a un certo punto vede che non ce la fa si disiscrive non c'è nessun problema per questo quindi uno anche può provare in qualche modo a vedere quindi Paola se vuoi provare puoi provare se vuoi vedere un po' come presento gli argomenti puoi cercare il Ramayana per gli oghi moderni e penso che con quello ti fai un po' un'idea della modalità con cui spiego i testi con cui affronto la chiave di lettura la prospettiva da cui affronto lo studio di questi testi sapienziali Daniela dice ho continuato a leggerlo da sola il Ramayana immagino ed è difficile perché la tentazione è di dare una propria versione della lettura e i fatti narrati certo insomma sono dei testi che ci danno tante informazioni leggerli insieme ha secondo me una marcia in più soprattutto questi testi prendono il loro significato quando li riusciamo a comparare anche ad altri testi quindi quando si ha una cultura un po' generale di questa letteratura quindi si sa da che tradizione vengono perché uno dei blocchi che può esserci nel leggere il Ramayana ad esempio ed è una delle cose che cerco di fare durante le letture è quello di togliere cioè di capire anche il contesto in cui vengono narrate quindi alcune cose che per noi sembrano strane che hanno proprio a che fare col campo socio-culturale di quel tempo possono sembrarci strane adesso se non sono ben interpretate se non sono comprese tutti i testi tutta la letteratura vedica ha più livelli di lettura un livello più possiamo dire letterale quindi gli avvenimenti un livello simbolico metafisico simbolico dove c'è un'analogia ad esempio Sita rappresenta l'anima che viene rapita da Ravana che è l'ego ecco questo è il livello simbolico poi c'è un livello etico ovvero queste storie sono fatti di personaggi che ci inducono una catarsi ci inducono a immedesimarci a quei personaggi e quindi è come se ne ricevessimo le loro belle caratteristiche ma non da un punto di vista teorico ma da un punto di vista di modello quindi è come se ravvivassero quei principi etici quei principi quelle virtù quelle caratteristiche belle quelle caratteristiche divine e in qualche modo le iniziassimo a sentire anche dentro di noi è come se ci fosse un transfert è come se quando ci identifichiamo con Rama un po' di quelle belle caratteristiche di Rama le venissero trasmesse al nostro inconscio e anche noi iniziassimo in qualche modo a svilupparle quindi è come se avvenisse questa trasmissione a un livello diverso da quello intellettivo è più diretto verso l'inconscio funziona più a quel livello e poi il quarto livello è il livello che Dante e la scolastica quando interpretava i testi sacri chiamava anagogico o spirituale cioè c'è un livello in cui si risveglia qualcosa in noi di più profondo ascoltare queste storie risveglia una maggiore disidentificazione non so se qualcuno di voi c'era ieri quando abbiamo fatto l'incontro sulle crisi che stiamo analizzando da un punto di vista psicologico le crisi spirituali le crisi nel percorso le crisi del percorso quello è un piano psicologico ad esempio ecco la filosofia la psicologia transpersonale ad esempio cerca ricerca questo piano animico questo piano profondo quindi qualcosa di profondo di ontologico si risveglia in noi cosa si traduce che riusciamo a vivere le cose con maggior distacco riusciamo ad abbassare le maschere più facilmente riusciamo a vivere la vita con più gioia riusciamo a contattare quella gioia interiore più facilmente questo è il quarto livello è chiaro è quello più esoterico ovviamente capite che man mano che saliamo di livello ecco quindi ci sono vari livelli e varie sfaccettature in cui contattare questi testi grazie paola nel tuo interesse Anka Ji Sankara chiede non sarebbe meglio leggere prima qualche versione del Mabharata per poi approfondire la Gita sicuramente il Mabharata è il testo in cui è castonata la Bhagavad Gita e nelle prime puntate della Bhagavad Gita troverete narrata anche un riassunto in qualche modo delle vicende del Mabharata almeno delle vicende della macro storia diciamo del macro filo narrativo perché queste storie questi testi sia il Mabharata che il Ramayana queste grandi itiasa questi racconti storici sono costruiti in un modo particolare c'è un filo narratore dove c'è la storia principale e poi ci sono innumerevoli storie che si diramano da questa storia principale quindi in realtà il filo narrativo del Mabharata si potrebbe raccontare in un'oretta forse un'oretta e mezza forse due ma il Mabharata se dovessimo raccontare tutte le storie il Mabharata servirebbe una vita probabilmente per essere raccontata sicuramente chi di voi vuole leggere una versione del Mabharata ben venga ma per quanto riguarda la Bhagavad Gita daremo le prime proprio i primi incontri le prime lezioni daremo un un contorno per avere proprio un'idea di quello che sta accadendo e come mai un testo filosofico così importante così fondamentale così potente sia stato raccontato nel centro di una battaglia questo è interessantissimo perché metaforicamente la metafora è semplicissima siamo tutti in una battaglia nella vita pensateci tutti noi abbiamo da combattere magari non con le armi magari il combattere significa lo sforzo che dobbiamo mettere per vivere questa vita ed Arjuna entra in crisi questo personaggio inizia da una crisi questo testo chissà se nel futuro non vi metterò anche qualche lezione dello Shiman Bhagatan sono lezioni che sto tenendo per un gruppo il venerdì c'è un post di Chiara allora ciao Prema sono Chiara non ci conosciamo ma ho seguito tutte le puntate del Ramayana e mi hai fatto appassionare moltissimo e ho continuato anche da solo lo studio sono contentissima quindi che tu abbia iniziato questo progetto mi sono già iscritto e volevo sapere se le puntate live saranno in giorni e orari stabiliti se sì quali sperando di riuscire a seguirli nonostante il lavoro fantastico grazie mille Chiara intanto della tua partecipazione quindi in realtà ci conosciamo attraverso il Ramayana il Ramayana è il mezzo con cui ci conosciamo da una certa prospettiva perfetto fantastico grazie di esserti iscritta e di supportare questo progetto il Ramayana i live saranno la domenica mattina che per qualcuno potrà dire oh prema perché è la domenica mattina io voglio dormire la domenica mattina e invece la domenica è proprio il giorno del sole e Rama astrologicamente associato al sole quindi è il giorno perfetto per reggere e lo faremo alle 8 del mattino perché il mattino ha loro in bocca e insomma iniziamo bene quel giorno rendiamo sacro quel giorno rendiamo divino è un momento che per noi occidentali è la fine della settimana quindi se vogliamo ragionare da occidentali possiamo dire che è un momento per riflettere alla settimana che abbiamo vissuto per Iveda invece la cultura indiana e anche per gli inglesi in realtà quindi senza andare troppo distante la domenica è il primo giorno della settimana si inizia spiritualmente non si finisce spiritualmente si inizia spiritualmente la settimana in modo che la settimana sia carica di energia evolutiva e che noi possiamo portarci quelle informazioni quei pensieri quei bei pensieri durante la settimana e viverla con quella con quella prospettiva c'è un altro punto interessante è che questi incontri non dureranno solo 20 minuti ma dureranno circa un'oretta qui ci sarà uno spazio sempre di confronto domande e risposte per chi partecipa al live per chi non partecipa al live avrà la registrazione questa è la differenza tra i vari livelli adesso magari ve li spiego meglio perché magari si fa confusione perché ci sono tre livelli e così via quindi sarà la domenica mattina mentre la Bhagavad Gita sarà il lunedì mattina e anche quella è già iniziata ma avrete le registrazioni dalla prima che ci saranno nella piattaforma tutte le registrazioni che troverete nella piattaforma siccome faremo faremo i live in piattaforme come Zoom o Skype qualora qualcuno di voi intervenisse io cancellerò poi i vostri volti per le registrazioni per una questione di privacy quindi non ci saranno i vostri volti nella registrazione quello lo so mi richiede un po' più di tempo perché devo un attimo tagliare il video e fare un attimo delle modificazioni però così questo secondo me è la cosa migliore per tutte le leggi delle privacy e queste cose qua che ci sono modernamente ci sono un sacco di leggi delle privacy poi ci chiama a casa mille volte qualcuno che il nostro numero di telefono non si sa perché ma questo è un altro discorso non so se avete avuto la stessa esperienza la legge della privacy e poi trovate che il nostro numero di telefono ce l'hanno tutti telecom tutti i tipi di che ci chiamano dalla Cina addirittura con questo numero di telefono eppure ci dovrebbe essere questa ferrea legge della privacy però così insomma vi potete sentire liberi anche di esprimervi sapendo che saranno poi espressioni anonime insomma che nelle registrazioni non ci sarà il vostro volto e così via penso che questo sia importante Erika ci dice a proposito della sacra Bhagavad Gita mi permetto di raccontare che in uno dei sogni più belli della mia vita mi ritrovavo in una casa sconosciuta e in un angolo della casa aprivo negli armagnetti e li trovavo una gran moltitudine di Bhagavad Gita wow non solo una ma una gran moltitudine e il mio cuore si riempiva di una gioia assoluta bello grazie Erika di aver condiviso il tuo sogno Dorina ci saluta livia ogni domenica praticamente ogni domenica e inizieremo non questa domenica ovviamente perché è troppo presto ma dalla prossima domenica quindi considerate che se la domenica c'è il live per chi di voi partecipa in live parteciperà in live per chi di voi non partecipa in live ma preferisce la modalità registrazione avrà la registrazione qualche giorno dopo adesso deciderò un giorno della settimana in cui mettervelo se non riesco il giorno stesso a tagliare il video e mettervelo ve lo metterò un giorno dopo Renata chiede ma gli incontri live sono su zoom probabilmente saranno su zoom sì probabilmente saranno su zoom probabilmente è la piattaforma più semplice basta un link e uno si connette l'alternativa era skype però effettivamente skype è più brigoso è più complicato da gestire quindi grazie se Tullia si è abbonata ora benvenuta nella 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 clue nel sanga ok direi che ci siamo quasi se ci sono altre domande scrivetemi vi faccio vedere un attimo i tre livelli e vi spiego un po' qual è la differenza ecco chi di voi ha trovato semplice capire la differenza tra i tre livelli ok vi faccio vedere questi tre livelli allora Paola c'è una differenza tra i tre livelli di abbonamento e vi faccio vedere subito qual è la differenza allora perfetto questa è un po' la pagina lo trovate su Patreon basta che cerchiate Academy per yogi moderni scritto tutto attaccato allora abbiamo scelto dei nomi carini il primo livello è apprendista yogi apprendista yogi moderno qua praticamente in questo in questo livello metterò oltre ad articoli quelli ci saranno per tutti articoli materiale didattico di vario tipo quello sarà per tutti i livelli in qualche modo quando scriverò un nuovo articolo lo metterò filosofico lo metterò in questa piattaforma per la community ecco nel primo livello apprendista yogi moderni ci sarà praticamente una registrazione settimanale delle letture su Ramayana quindi avrete ogni settimana a partire dalla dalla prossima registrazione che sarà il 30 quindi dal 30 entriamo in regime e ci sarà un accesso a una nuova registrazione del Ramayana quindi avrete una lezione una registrazione ogni settimana ok e ovviamente avete l'opportunità di vedere tutte le registrazioni precedenti vi faccio vedere poi come appare quando entrate nel canale ok quindi il primo livello praticamente oltre agli articoli che scriverò regolarmente mi aiuterà Mimma prendendo spezzoni delle lezioni già fatte e scrivendo degli articoli che possono essere dei pensieri da leggere durante la settimana insomma per supporto alla vita poi abbiamo il secondo livello yogi moderni invece in cui avrete sia la registrazione del Ramayana sia la registrazione della Bhagavad Gita degli incontri di Bhagavad Gita più altre registrazioni in qualche modo vi ho detto che qua a questo livello avrete accesso anche a tutti gli altri tipi di registrazione che farò a riguardo quindi non solo la Bhagavad Gita ma eventualmente se ci sono altri tipi di incontri sarà qua che metterò le registrazioni quindi diventerà anche un po' un database in cui più avanti man mano che ci sarà che sarà pieno di contenuto uno magari vuole vedersi una puntata vecchia o una vecchia conferenza ecco le ritroverà tutte qua in qualche modo e poi abbiamo il super yogi moderni che invece è diciamo la peculiarità del super yogi moderni ve lo metto un po' più su perché ci sono anch'io qua da una parte del video è il fatto di poter partecipare agli incontri live quindi dal vivo quindi poterci vedere poter fare domande poter interagire direttamente settimanalmente alle dirette ovviamente questo super yogi contiene anche gli altri livelli al suo interno quindi avrete comunque le registrazioni quindi anche qualora non sia possibile partecipare a tutti gli incontri live ci sono comunque le registrazioni però l'incontro live è anche uno spazio in cui fare magari delle domande poter condividere qualcosa di personale ok in ogni caso in questi due livelli in questi due livelli abbiamo anche un canale telegram in cui poter scambiare con la community in ogni caso la piattaforma Patreon è comunque un luogo di scambio quindi potete adesso vi faccio vedere cosa c'è all'interno quindi queste sono un po' le differenze base su questi tre livelli penso che siano chiare adesso fatemi sapere o fatemi delle domande se c'è qualcosa di non chiaro su questi tre livelli sono anche impegni differenti nel senso che chi semplicemente vuole una versione più podcast dove le cose sono registrate uno se le ascolta quando vuole e gli interessa solo il Ramayana e non gli interessano gli altri video che faccio che siano del Ramay che siano della Bhagavad Gita e così via probabilmente questa è la scelta perfetta chi invece vuole anche studiare altri testi altre altro materiale didattico che posso produrre nel corso del tempo e vuole avere accesso a tutto questo materiale registrato questa probabilmente è la scelta migliore chi invece vuole un'interazione maggiore vuole vivere proprio queste puntate proprio nel momento in cui vengono compiute in cui vengono fatte e vuole interagire vuole esserne parte allora probabilmente il super yogi moderni è il tipo di modalità migliore piccola parentesi per chi già partecipa all'accademy per yogi moderni già partecipa della Bhagavad Gita il live della Bhagavad Gita e potrà partecipare ai live del Ramayana ok ma le registrazioni purtroppo quelle possono essere solo nel canale Patreon le registrazioni ci sono solo nel canale Patreon perché non posso aprire il canale ad alcuni ad esempio è Patreon che gestisce le entrate nel canale per me è importante perché è un luogo dove posso mettere tutti questi contenuti e sapere che sono protetti insomma che sono in quel luogo e che li possono vedere persone interessate in qualche modo al progetto e quindi so che le persone che partecipano di questa comunità sono persone che hanno già un percorso che già che hanno fatto una scelta di evolversi e quindi posso parlare in un certo modo posso condividere certi contenuti come sapete i percorsi evolutivi sono anche percorsi come si può dire si utilizza questa parola iniziatica non che ci sia un'iniziazione ma nel senso che man mano che si che si adentra a certe materie che si capiscono certi contenuti si ha anche la capacità di gestire informazioni di capire meglio di entrare più in profondità su certe cose e quindi è un livello superiore questo rispetto al broadcast diciamo che delle di un podcast di un podcast ad esempio direi che ci siamo quasi vi faccio giusto vedere come strutturato patreon ok questo è patreon come lo potete vedere è una sorta come facebook praticamente che ci sono una successione di post quindi nel canale adesso avete già le mie lezioni dei sintomi del kaliyuga avete già il le lezioni sull'evoluzione spirituale passate le crisi spirituale e vi ho già messo la prima lezione della bhagavaghita quindi chi è scritto nel secondo livello ha già una lezione da guardare la prima lezione della bhagavaghita ok uno si potrebbe chiedere come faccio poi a trovare i contenuti no quando ci saranno tanti contenuti la cosa interessante è che ci sono delle cartelle qua sopra ci sarà la cartella della bhagavaghita ci sarà la cartella del ramayana quindi basterà entrare in quella cartella e avrete a uno a uno tutti i post passati tutti i video passati di quella determinata materia qua avete gli articoli che sono stati scritti ad esempio avevo comunicato che ci sarebbe stato uno zoom a sorpresa e qua comunicherò anche per chi deciderà il super yogi moderni comunicherò anche il link zoom per connettersi alla diretta zoom della domenica o del lunedì ottimo quindi questo è molto semplice usare patreon alla fine della giostra potete anche ricercare tra i contenuti fare una ricerca tra i contenuti e così via ok questo è quanto ah ok questa è una domanda interessante Emanuele questa è una domanda interessante Emanuele chiede ma è possibile fare l'upgrade da un livello all'altro quindi che ne so uno si iscrive come apprendista yogi poi ci prende gusto e dice ma io non mi basta una volta la settimana io ho due volte alla settimana e può fare l'upgrade quindi salire di livello oppure una persona sta sentendo le registrazioni e a un certo punto dice no ma io vorrei proprio partecipare a quegli incontri e quindi vuole salire super yogi moderni sì questa è una cosa che gestisce Patreon quindi Patreon gestisce tutte queste cose e anche questo è il bello gestisce ogni cosa tecnica che riguarda la piattaforma quindi non solo è possibile salire di livello ma è anche possibile scendere uno capisce che no io non riesco a partecipare a live perché la domenica mattina ho i figli che devono andare a fare gli scout perché il lunedì devo andare presto al lavoro e così via e e allora può scendere di livello quindi rimanere iscritto ma scendere di livello e mettersi nel livello che reputa più opportuno Mima dice magari anche una bella sezione simantra sì l'idea è mettere su questa piattaforma tutto ciò che può essere utile per l'evoluzione partiamo da questi testi ma poi non c'è limite a quello che si può poi creare all'interno un'altra cosa interessante che mi ricorda chi sciogli dall'altra stanza è che c'è anche l'applicazione di Patreon quindi potete scaricare l'applicazione di Patreon non so Kishori puoi mettere i link visto che hai sollevato il punto se li riesci a trovare i link che ne so di Apple Store e di Google Store si può scaricare l'app e quindi senza dover andare su internet uno apre l'app e ha Patreon installato con già il canale e quindi può ascoltare anche dal cellulare quando è in giro quando è in gita fantastico io sono felicissimo di iniziare questo viaggio con voi per chi deciderà di partecipare penso che sia un modo di allargare e creare network tra persone consapevoli una parte di questo network sto già lavorando per crearlo per un punto di vista astrologico però effettivamente non tutti saranno astrologi e quindi espandere la comunità anche a un livello spirituale quindi un livello spirituale che un livello evolutivo e quindi dare anche questa possibilità penso che sia un ottimo step per per unire persone consapevoli in un'epoca in cui tutte le persone consapevoli sono come dei chicchi divisi un chicco qua un chicco là un chicco là e che dobbiamo riunirci come in un piatto per fare un bel riso insieme per fare una bella pietanza insieme per poter cambiare insieme ed una delle cose che riscontro spesso nelle mie consulenze astrologiche quando parlo con le persone e molto spesso trovo delle gemme delle gemme delle persone veramente con un grande cuore con una grande con un grande desiderio di crescere quello che riscontro spessissimo è una grande solitudine di sentirsi da sole in questa sensibilità e questi progetti qua hanno lo scopo in qualche modo il mio scopo sarebbe è quello di unire queste persone sotto il ventaio dell'astrologia sotto il ventaio della filosofia sotto il ventaio del percorso di evoluzione persone che si evolvono che crescono e chissà che in futuro già a breve a maggio ci sarà un ritiro bellissimo di astrologia vedica chissà che in futuro non faremo anche un ritiro di Ramayana un ritiro di Bhagavad Gita un ritiro per gli oghi moderni stare insieme leggere insieme cantare insieme vivere insieme e conoscere conoscere persone conoscere persone che vibrano una vibrazione più alta che hanno fatto delle scelte che hanno qualcosa di speciale di diverso dentro di loro e perfetto Renata chiede si inizia domenica prossima ripetiamo quando iniziano le lezioni live allora la prossima lezione poi metterò su Patreon un post così che ce l'avete anche là la prossima lezione live una lezione live inizia il 30 quella del Ramayana il live della Bhagavad Gita invece inizierà l'1 maggio la festa del lavoro così nessuno può dire devo andare a lavoro devo andare a lavoro subito dopo la Bhagavad Gita è dalle 7 alle 8 è un po' prima per permettere a chi deve andare a lavoro per qualcuno di voi sarà un'austerità ma pensate che è qualcosa che fate per voi per iniziare la giornata in modo consapevole la settimana in modo consapevole perfetto quindi queste sono le date domenica 30 aprile dalle 8 alle 9 la domenica ci diamo un'oretta in più per fare le nostre cose e invece lunedì sarà dalle 7 alle 8 grazie a Sarvacanti ottimo progetto ci piace molto parteciperemo grazie per questo bellissimo e rilevante servizio grazie Sarvacanti Adamo Alananda Renata dice benissimo Ramayana ok grazie Kishori Lidia davvero un bel progetto che ci unisce e arricchisce è vero la condivisione è fondamentale grazie Lidia perfetto Daniela dice grazie prema grazie a tutti poter partecipare e condividere questi pensieri allarga il cuore e la mente Luisa ci ringrazia per questo progetto fantastico io direi che abbiamo detto tutto vi ho fatto vedere un po' i punti salienti e direi che possiamo partire non ci resta nient'altro che partire grazie a tutti